...e sono felice che in questo caso il papà Hermes e la mamma Jessica hanno trovato questa grande famiglia. È uno sport che unisce e che cimenta delle amicizie che vi non hanno tutta la vita. Io ringrazio molto per questo gesto e per la felpa e sono felice di vedere qualche sti bambini. Sono sicuro che se continuerai ad andare a campo, continuerai a vedere Massimo nel sorriso, fanno come dietro una palla, quando si scorcano, quando piangono, perché si fanno male. Quindi grazie mille dell'invito, mi sono veramente sentito preso da questa iniziativa, dal libro, che è veramente fantastico. Grazie mille a Jessica, a Pierina, a tutti i collaboratori e niente.